Dominique Fake, Mona Lisa Smile, 8 e 32 minuti, giovedì 11 aprile, ma adesso abbiamo un nostro graditissima ospite qui in collegamento con noi, Anna Castiglia, buongiorno Anna. Ciao Fabio, buongiorno. Buongiorno a Anna Castiglia, allora perché l'abbiamo qui? Perché finalmente domani sarai in un concerto qui a Milano, dopo aver girato praticamente tutta l'Italia, torni a Milano a portare la tua musica, la tua musica che insomma quest'anno sta spopolando, c'è poco da fare, è tutto arrivato così velocemente come sembra da chi magari non ti conosceva oppure è tutto un lavoro molto più lungo che magari i più distratti non si sono accorti che c'era? Allora, non faccio musica da quest'anno per cui è un lavoro lungo, assolutamente, una gavetta anche lì è lunga, però gli ultimi avvenimenti diciamo che sono stati molto veloci, quindi entrambe le cose, sicuramente l'esposizione più grande, anche un pubblico più grande è arrivata molto velocemente e di conseguenza tutto quello che sta succedendo, tour, singoli, collaborazione. Collaborazione, abbiamo sentito, anzi diamo subito la notizia, la ridiamo, anche se tu ieri l'hai data, di una collaborazione importantissima per il tuo prossimo singolo, giusto? Sì, esatto, Whitman. Whitman con, che uomo, con Whitman in quel caso, quale uomo ha fatto la collaborazione con te? Gammon. Eh, insomma, interessante la scelta però, perché anche Gammon è uno che sta facendo una cosa molto particolare in questo momento, in giro nei teatri con uno spettacolo, reading, musica, cioè non si capisce bene cosa sia finché non andate a vederlo, quindi insomma è interessante questo. Tu comunque appunto nasci da una storia, cioè nasci appunto da un percorso lungo, appunto, perché sono anni che porti in giro, tu dicevi, anzi Whitman leggevo in un post che hai detto, sono quattro anni che in realtà me la lavoro un po', no? Dicevi, poi finalmente è uscita. Però tu sei stata lanciata così, tu sei forse un caso più raro che, cioè l'unico anzi mi viene in mente, cioè sei l'unica, l'unica che non ha partecipato a X Factor ad aver però essere, cioè tutte le puntate di X Factor ti nominavano, cioè com'è sta storia. Che senso ti dava quella cosa lì? No, mi faceva anche ridere a un certo punto, però no, mi ha dato grande gioia perché ovviamente quando giri il programma non hai idea di come andrà, ovviamente pensavo che fosse andata male, perché di fatto è andata male nel senso che mi hanno eliminato. Brava, sulla carta tu hai perso, anzi non ti hanno neanche accettato, ti hanno detto no, ti hanno sbutto la porta in faccia in un certo senso, no? Così verrebbe da leggere comunemente. Poi invece? Eh no, poi invece la risposta del pubblico è stata bellissima, mi ha dato molti sì e molta gioia, anche autostima e anche stima nei confronti del pubblico che ci fanno credere che sia scemo e non voglia, che voglia ascoltare solo una cosa, ma non è così. Eh, perché poi c'è questa cosa qui, nel senso tu hai un pubblico che ti segue e come che ti segue, nel senso che proprio si è subito creata una grandissima comunità, mi dovrebbe dire, non tanto una community, ma quasi una comunità intorno a te, però tu non fai la trap, non fai il rock dei Maneskin, cioè fai una musica abbastanza tua in un certo senso, ma comunque è roba molto tua, no? Sì, infatti questo mi stupisce, nel senso è una bella dimostrazione che il pubblico ha anche voglia di novità, ma nemmeno novità, perché quello che faccio è anche ispirato al passato, quindi è super bella questa cosa, mi ha dato molta speranza. Cioè tu dici Anna che lo facciamo, giustamente tu mi dicevi prima, lo facciamo troppo scemo il pubblico, in realtà non è così. Sì, infatti non è proprio così, quindi era anche strano sentirmi nominare durante le puntate, io ovviamente poi un po' l'ho seguita anche dopo l'eliminazione e mi piaceva ridere, mi arrivavano delle storie tipo bevi uno shot ogni volta che Anna Castiglia viene nominata. Sì, c'è gente che è dovuta finire in alcolisti anonimi per colpa di questa cosa adesso, effettivamente, ma come è stato però il momento in cui in realtà però tu hai detto ecco ho fallito sto giro, ho perso, non mi hanno presa, per ben due volte poi altrettanto, cioè quella è la cosa che è divertente di questa storia. Tu hai avuto anche la possibilità di rientrare e niente, non ce l'hai fatta neanche lì, però poi, come è stata però la sensazione in quel momento, in quei due momenti, come è stata la sensazione? Il primo momento molto brutta, per vari motivi, anche per i motivi per cui sono stata eliminata, non lo so, cioè comunque da lì è stato un po' brutto, è difficile riprendersi perché ho pensato seriamente che in Italia non ci fosse posto per me, per il mio stile, per quello che faccio. Dopo invece è stato bello comunque perché già avevo iniziato la mia collaborazione con OTR Live, sapevo che se non fossi entrata a X Factor sarei andata ad aprire Max Gazze, quindi ero tipo al settimo cielo lo stesso, ed ero strafelice comunque, l'ho presa bene, sorridere, mi ha fatto comodo un'altra apparizione, è andata bene alla fine. Cioè Anna, mi stai dicendo che se ti avessero preso X Factor, tu non avresti aperto i concetti di Max Gazze, perché erano in contemporanea, e quindi chissà se poi veramente sarebbe andata così dopo, no? La cosa interessante anche del tuo personaggio è che hai un tuo stile in tutto quello che fai. Quanta ricerca c'è per questa cosa? Ma in realtà più che ricerca, io sto cercando ultimamente sempre di assecondarmi, perché è molto difficile far uscire la verità, dato che ci riempiamo di artifici, di giudizi degli altri e li indossiamo per piacere a tutte e tutti, e quindi ultimamente mi chiedo tutti i giorni, mi piace questa cosa, mi vesto così perché me l'hanno detto o perché mi piace, e quindi è un processo, non è ancora definitivo, non penso ancora di essermi mostrata al 100%, però credo sia un processo che mi accompagnerà per sempre, quello di assecondarsi e cercare di mostrare sempre la verità. E poi comunque viviamo in un mondo appunto dove l'apparenza, ahimè, è molto importante anche e soprattutto per quanto riguarda i social, le parole chiavi ancora di più, tant'è che tu hai fatto una genialata. Il tuo brano più famoso si chiama Gali, cioè qualcosa che veramente, altro che se o tag o cose del genere, cioè parole chiavi, nel senso è stato geniale. E anzi, io direi una cosa, Anna, ascoltiamocelo, così che chiunque si sta ascoltando in questo momento Crystal Radio sa di cosa stiamo parlando, ci ascoltiamo appunto Gali di Anna Castiglia e poi torniamo ancora qui a parlare perché appunto dobbiamo dire che domani, domani c'è il concerto di Anna Castiglia all'Arci. Bellezza. E quindi andiamo con Gali, Anna Castiglia alle 8.39 minuti qui su Crystal Radio. Anna Castiglia con Gali alle 8.42 minuti qui su Crystal Radio, FM 96.2, DAB Plus in tutta Lombardia. Anna ancora in collegamento con noi perché appunto ci devi dare l'appuntamento per domani sera. dove sei e dove possiamo trovarti domani sera, Anna? Allora, domani sera sarò con la mia band all'Arcibellezza a Milano dalle 21, 21.30. Sono felice di comunicare che è un sold out che però ha una lista d'attesa che penso scorrerà perché magari chi ha perso il biglietto tempo fa non è detto che poi venga, quindi siete ancora invitata e invitati. Magari qualcuno ha preso la febbre come me, magari qualcuno ha la febbre come me, non può venire effettivamente. È molto probabile. E la sfortuna di qualcuno sarà la fortuna di qualcun altro, benissimo. C'è la tua band ma poi c'è anche un collettivo di cui tu fai parte, no? Ma accortami un po' questa storia che è interessante. Più la ci siamo letti velocemente fuori onda, poi siamo entrati in onda non l'hai potuto raccontare, dimmi un po'. Sì, è un collettivo femminista di cantautrici dove appunto ognuna di noi siamo in cinque, ha il proprio progetto, però poi ci uniamo spesso in questo collettivo, soprattutto nei concerti, diciamo per in qualche modo contrastare un po' il gap che c'è nella musica a livello di genere, anche per normalizzare la presenza delle donne sul palco perché c'eravamo rese conto che cinque donne tutte insieme facevano ancora impressione, un certo effetto, invece magari cinque uomini come la normalità, come qualunque gruppo storico è normale e quindi... Cioè dici che è ancora così, Anna, c'è ancora così, nel 2024 ancora se vediamo appunto i Club Dogo che su tutti i maschi van bene, se vediamo tre, quattro, cinque ragazze che suonano insieme ci fanno specie? Sì, così come se vedi una ragazza che si produce o fa la batterista, ancora fa effetto a me anche, cioè a tutti e tutte e quindi abbiamo deciso di fare, cioè il tipo di concerto che facciamo solitamente è con le nostre canzoni, ognuna fa le proprie canzoni, però le cantiamo tutte insieme e ci passiamo la chitarra un po' come testimone e anche per distruggere un po' di stereotipi sulle donne che non fanno rete, che si odiano, meglio fare sorellanza, meglio fare rete, per amplificare le nostre voci, insomma. E domani verranno, sarà l'unica serata con ospiti, verranno a Milano a fare due pezzi con me, due miei pezzi con me in quella modalità lì. Ok, per il collettivo di dov'è? Dov'è il collettivo di storia? Allora, il collettivo è nato a Torino, perché vivevamo tutti a Torino. Tu hai vissuto ovunque, cioè tu hai fatto veramente il giro d'Italia, no? Sì, però adesso una, Rossana De Pace, vive qui a Milano con me, Irene Buselli a Genova, Valera Rossi a Como e francamente Francesca Siano a Berlino. Quindi diciamo che fare le prove non è la cosa più facile del mondo. Quindi francamente è quella che invidiate tutti perché vive nella città più bella, giusto? Quella che vive in Berlino. A proposito di città, la cosa interessante secondo me Anna è che tu sei di dove, ricordiamolo bene? Di Catania. Di Catania, ok, perfetto. Tu ami la tua terra, lo dici spesso, lo racconti spesso e tutto, ma sei diventata milanese in un attimo, posso dirtelo? Perché? Sei nel contesto, secondo me, di questa città perfettamente. Devo dire che anche abbiamo visto quello che prima io definivo videoclip, tu poi mi hai detto, beh, sono un reel in realtà, però ad esempio partecipi presente, una delle tue canzoni, ha un reel girato in mezzo alla città tra Piazza Duomo e la metropolitana, che però ti fa sembrare, cioè, mi viene ben in mente, gli annacci Gaber e Anna Castiglia, cioè mi viene così, no? Chiudevo il trio in quella maniera, nel senso che sei veramente, non so, molto meglio è una tua facilità dell'essere un po' zeliga anche molto probabilmente, avendo girato tanto, per potersi plasmare alle realtà, oppure sono le realtà che le plasmi a te, non lo so, questo lo capiremo. Però, insomma, ti vedo perfettamente a Milano, oppure è una città che ti sta facendo soffrire un po', dimmi un po'. Ma, allora, quando sono arrivata mi è piaciuta troppo, già ero venuta mille volte a Milano, perché vivendo a Torino mi è capitato spesso di fare viaggi così, adesso ultimamente mi ha fatto veramente patire la pioggia, infatti sono felicissima che oggi ci sia il sole e anche la nebbia, cioè, tipo, non ce la stavo facendo più, e anche il fatto di vivere molto sottoterra, è per questo che ho scelto la metro e l'azione di camminare tanto, perché è quello che faccio tutti i giorni ed è quello che un emergente, quello di cui parla la canzone, fa, si affatica via sottoterra e a piedi, non hai i mezzi, non hai un mezzo suo. Quando si dice musica underground, in quel caso è veramente underground, no? Esattamente, sottoterra, non sposta. No, però adoro Milano perché è molto europea e stare qui è come viaggiare, mentre sei ferma e quindi adoro questa cosa, questo aspetto qui. Com'è fare musica qua, invece? Fare musica qua, boh, penso sia più facile rispetto ad altri posti, ma allo stesso tempo più difficile perché sono tutti qua e quindi ci sono, devo ancora inquadrarla perché in realtà sono qui da poco, un anno e mezzo, l'anno scorso ho studiato, sono qui per il conservatorio, l'anno scorso avevo deciso di prendermi una pausa, poi però è arrivato X-Factor, ho detto basta, ora voglio studiare, neanche il tempo di dirlo, è che è successo tutto, però non ho fatto la classica gavetta come a Torino, che magari andavo in tutti i localini così, però ho noto anche da pubblico che ci sono tante scene musicali, tanti gruppetti, mi piacerebbe che si comunicasse un po' di più, che ci fosse più una rete, però è difficile perché è molto grande come città, mentre a Torino magari c'era di più questa cosa perché è piccolina, quindi era facile che tutti si conoscano. Tu sai che domani suoni in un locale storico di Milano, nel senso l'arcibellezza è qualcosa di veramente importante dal punto di vista culturale, non solo musicale, di questa città. Sì, ma io la prima volta che l'ho visto, è stata la prima settimana che mi sono trasferita, ero incantata, ho detto a me piacerebbe tantissimo prima o poi suonare qui, infatti sono strafelice, cioè incredibile. Guardate, da grande fan di Anna Castiglia, devo dirvi che ho solo un dispiacere per lei, il fatto che lei non possa suonare le scimmie, vi dico la verità, peccato che ha chiuso le scimmie perché Anna Castiglia era la cantante giusta da far suonare le scimmie, semmai Anna un giorno cerca e guarda cos'erano le scimmie, le scimmie erano un locale storico che c'era su un barcone sul naviglio, famoso anche per i videoclip delle vibrazioni, però insomma, nel senso, era un luogo importante della nostra città dove hanno suonato tutti i più grandi e quindi davvero peccato non poterti far suonare lì perché era veramente forse qualcosa di importante. Tu oggi sei a Milano, ma per poche ore, perché fra un po' te ne vai, giusto? Dove devi andare oggi? Sì, tra poco vado a Firenze per un evento. E non in piazza Firenze, va a Firenze Città, cioè non, ok. Sì, vado a Firenze Città per poi ritornare domani, giusto in tempo per il concerto, lo prometto, speriamo, però vado a fare un evento che si chiama Be Kind, una manifestazione dedicata ai giovani, quindi aperta alle scuole, sulla gentilezza, in cui sono stata invitata a fare qualche pezzo, a parlare dell'argomento. Non è la prima volta che collabori con le scuole e con i ragazzi giovani, vero? Siamo anche una cosa che ti interessa questa. Esatto, sì, quest'anno ho fatto già tre date con, oddio, mi sto sfuggendo la sigla, è un'associazione, è nata tra l'altro Catania, che però adesso è in tutta Italia, l'ho fatta anche qui a Milano, che simula le Nazioni Unite, quindi ragazzi vestiti da ambasciatori serissimi, parlano inglese, ognuno rappresenta un paese, risolvono delle problematiche e io ero stata lì come ospite. Mi ricordo che anche quando ero a scuola c'era questa cosa. Ah, dai, bene, bene. Quindi mi piace. Beh, insomma, allora, quindi domani c'è appunto, c'è stasera appunto, sei a Firenze, cioè oggi sei a Firenze appunto con questa bellissima iniziativa verso le scuole, domani sei all'Arcibellezza, insomma, sempre in giro, sempre in giro. Com'è questa vita da vagabondi? Si riesce a fare? Bellissima. Sì, certo, puoi fare solo questo, perché il momento in cui sei ferma non riesco a studiare sicuramente, a concentrarmi, ogni volta mi devo riprendere, non lo so, mi devo abituare sicuramente, c'è chi riesce a studiare in tour magari. E le canzoni nuove come fanno ad arrivare? Le hai già lì tutte pronte oppure i viaggi servono per questo? Ma allora, i viaggi servono, ho scritto molte volte in viaggio, non per forza di un tour, però è anche vero che secondo me è un lavoro molto stagionale, ci sono momenti in cui stai a scrivere, sedentari, e momenti invece in cui giri, non ti fermi, non fermarsi a volte non fa metabolizzare alcuni pensieri, quindi alcune canzoni, ci sarà il momento in cui arriveranno, in realtà ne ho già scritte di nuove nel frattempo, però insomma adesso sono molto deconcentrato. Prima di salutarti, voglio chiederti una cosa, tu hai seguito sicuramente la questione San Giovanni, quello che è successo e tutto quello che c'è intorno appunto a quel tema. Tu stai iniziando adesso, non ti spaventa un po' tutto questo? Sì, mi spaventa molto, però sono contenta che finalmente San Giovanni abbia posto l'attenzione su questo argomento perché è quotidiano anche per chi è emergente. Ecco, ma già al tuo livello per intenderci, facci capire un attimo, tu sei al primo gradino di una scala molto lunga che può arrivare fino a pausini e oltre, non so come dire, fino a diventare madonna, non so come dire, ok? È già così però, già così ai punti più bassi? Cioè quando si parte? Allora, diciamo che la pressione c'è sempre, anche l'emergente che a maggior ragione non sa come emergere, cerca di seguire quelle logiche lì dei numeri, perché stiamo parlando di numeri qui istruttivi. Ovvio che a quei livelli lì la pressione è altissima perché sei già arrivato e devi mantenere alto il livello, cioè l'attenzione è più che altro perché il livello purtroppo non si considera la qualità, non esiste. Eh, perché i numeri non sono legati a quello, cioè se fossero legati solo a quello uno è più tranquillo perché sarebbe legato al tuo fare, invece no. Ricordiamo però che appunto grazie allo streaming e tutto quello che è, tu sei diventata miliardaria, giusto? Mi ricordo una storia di qualche tempo fa dove hai detto che cosa, ricordiamo un attimo, noi abbiamo subito riportato la notizia quando era uscita, eh? Quale? Spero, non mi ricordo. Hai fatto vedere che avevi guadagnato praticamente 12 euro, una cosa del genere dai… Ah, esatto, grazie alla SIAE, assolutamente. Sì, giusto. Quanto è che avevi guadagnato con 60 e passa mila ascolti? Sì, cioè quelli sono i miei proventi SIAE del primo semestre, 12 euro, che comunque ci avrò comprato una tracolla per la chitarra. Eh, infatti, io ti avrò comprato una pizza con Coca-Cola, proprio perché un birra già secondo me superavi 12 euro a Milano, infatti. Però per far capire appunto che forse poi bisogna veramente incominciare a trottare e girare, anche per quello, perché se vogliamo farlo diventare un mestiere è questo, insomma, bisogna darsi da fare. Anna, grazie mille, davvero. Grazie a te, Fabio. Complimenti ancora per tutto quello che stai combinando e facendo in giro, seguite Anna Castiglia sui vari social, così cambiano, anzi, fate un po' di numeri, così l'ansia da numeri discende un attimino, giustamente. Facciamolo. Quando mettiamo un like? Mettiamolo per il benessere anche psicofisico del cantante, va bene? Facciamolo con questa missione. Anna, domani sera, quindi, ricordiamo appunto all'Arcibellezza, alle ore 21, grande concerto con anche un po' di ospiti, quindi insomma c'è tanta tanta buona musica. Ciao Fabio, è stato un piacere. Piacere nostro. Riprenditi, mi raccomando. Grazie, sì, anch'io c'ho bisogno del like per il mio benessere psicofisico, grazie, va bene. Grazie mille Anna Castiglia e andiamo appunto con Participio Presente alle 8 e 55 minuti qui su Cristal Radio e poi ci faremo un attimo giornale radio e poi torniamo ancora qui con noi. Non è vero, no. Participio Presente e poi torniamo a salutarci, scusate, ho sbagliato tutto. Stamattina c'è la febbre, c'è la febbre, c'è la febbre.